Tango! e nonostante l'alto del piano ma poi consente solo dal cuore che giunge il canticello all'interno e il sole vira giù si scende in strada allora si chiede se c'è qualcuno che ha visto un po' di più poi viene in mente e ti estrappa una guitarra che sa bene è quello che fa Oh, eh, tanto è passione però restarci i piedi è un sorriso, iniziamo piano piano a masticare, invita la tua dama Luca per un bellissimo valser lento di posizioni come ti ha insegnato Claudio, siamo pronti? Non ancora? Siamo quasi? Allora nel frattempo quanti anni avete Luca? Dimmi quanti, corri 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 più più veloce, sei cantato il cd da una dipomodata a te, quanti anni hai? Sette, Pea? Sei, ma hai intenzione di imparare bene? Sì, bene, ci impegniamo dall'anno prossimo? Sì, bene, siamo quasi pronti? Sì o no? Proviamo a vedere se parte il cd con il valser lento, invitiamo bene, come il solito comanda la dama come tutte le cose, siamo pronti? Marzer lento! ultimo giro, arriviamo nell'angolino, do you know what's going on? Wow! possiamo scovare, ringraziamo Luca e il nostro pubblico, l'anno prossimo e prenderemo altre cosine...